Io non capivo all'inizio della mia vita missionaria in Libia, non capivo bene, anche se avevo studiato sei mesi nell'istituto pontificio là a Roma sulla islamologia, una cosa è studiare la islamologia in un bel tavolino, in un bellissimo istituto pontificio, ma un'altra cosa è vivere con gli arabi musulmani, un'altra cosa, i libri si chiudono ma la vita si apre.